Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Ci occupiamo di una vicenda occupazionale che in questo caso ha avuto un epilogo positivo. I sindacati esprimono grande soddisfazione per la chiusura della vertenza che fa approdare i 219 lavoratori ex OMA nella società Lear. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Nella giornata di martedì 28 giugno, dopo quasi due mesi di trattative, è stato sottoscritto da FIM, FIOM e WILM Territoriari l'accordo per il passaggio dei lavoratori di OMA in Lear dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima, avvenuta il 25 marzo 2022 dalla procedura fallimentare. Dopo la mobilitazione delle maestranze e l'approvazione dell'esercizio provvisorio che ha consentito la continuità lavorativa e occupazionale, è iniziato il percorso che con non pochi ostacoli ha traguardato Lear, azienda legata al settore aerospace con sede nella provincia di Benevento. Però oggi permettete di dirci che è una bella giornata perché per l'ennesima volta si riafferma che questo è un territorio che ci tiene tanto al lavoro e che attraverso l'appartenenza a un territorio molto dedicato ai sacrifici, attraverso la personalità dei lavoratori, attraverso la competenza, siamo riusciti a salvaguardare i posti di lavoro di 219 persone. Ora i sindacati sono in attesa di discutere con l'azienda il piano industriale a garanzia degli investimenti futuri e di avviare una discussione in merito alle peculiarità dei singoli territori. L'arrivo di un acquirente dopo varie aste andate deserte ci fa sperare in un futuro, anche in un'altra azienda, però in un futuro roseo e su questo noi chiederemo anche rassicurazioni nella richiesta di un piano industriale e degli investimenti. L'accordo che abbiamo siglato unitariamente e con il mandato, l'appoggio di tutte le maestranze garantisce i diritti per tutti. L'Università degli Studi di Teramo diventa l'ateneo più inclusivo d'Italia con l'ampliamento della no tax area e la creazione di percorsi paralleli per studenti speciali. Le iscrizioni si apriranno ufficialmente a partire dal 18 luglio prossimo. Il servizio è curato per noi da Tania Bonici Castelli. Inclusione ed eccellenza sono questi i principi ai quali si ispira l'Università degli Studi di Teramo nell'affrontare il nuovo anno accademico 2022-2023. Sull'inclusione soprattutto ci sono novità importanti che riguardano l'ampliamento della no tax area, programmi specifici per studenti atleti con disabilità. Ma ciò che rende unico oggi in Italia l'ateneo Teramano è la creazione di percorsi paralleli per studenti speciali che hanno conseguito un certificato di frequenza in un istituto superiore e che potranno iscriversi ad alcuni corsi di laurea. Le novità sono di fatto tante ed importanti. L'iscrizione dei 43 studenti e studentesse afghani e continua con un'inclusione che possiamo dire legata al reddito, quindi di tipo economico. Quest'anno alziamo la no tax area da 22 mila euro di ISEA a 24 mila euro. Voglio ringraziare il Senato accademico, tutti gli organi di Ateneo per questo sforzo importante che va incontro alle esigenze del territorio, esigenze legate alla pandemia, legate alla guerra. Un altro elemento di inclusione è l'introduzione per la prima volta in Italia, è la prima università in Italia, di un percorso parallelo per le persone disabili per conseguire un attestato di frequenza a quattro corsi di laurea che partiamo quindi come percorso sperimentale. Inclusione dei lavoratori, quindi abbiamo redatto un nuovo regolamento per quanto riguarda gli studenti lavoratori. Inclusione nello sport, il CUS Unite parte ufficialmente con una sezione paralimpica. Per quanto riguarda poi l'eccellenza, il Senato accademico dell'Università degli Studi di Teramo ha deciso la creazione di percorsi privilegiati per gli studenti con una media tra il 27 e il 30. Introduciamo dei percorsi di eccellenza, quindi dei percorsi per studenti che abbiano una media di almeno 27 trentesimi per poter approfondire il loro percorso formativo e anche accelerare i tempi. Un'università, quella di Teramo, che non intende lasciare indietro nessuno ma che allo stesso tempo è attenta alle eccellenze. Le iscrizioni sono aperte a partire dal 18 luglio prossimo. A CEA si è aggiudicata tramite la controllata CEA Ambiente il ramo d'azienda denominato Polo Cirsu in località casette di Grasciano di Notaresco in provincia di Teramo. All'esito della gara, a CEA Ambiente è risultata maggior offerente con un importo di 19,1 milioni di euro. Il ramo d'azienda è composto dalla discarica denominata Grasciano 1, completamente esaurita nei volumi autorizzati. Dalla nuova discarica denominata Grasciano 2, consistente in un primo lotto pari a 234 mila metri cubi e un secondo lotto da realizzare con una volumetria autorizzata di metri cubi 246 mila. Da un impianto di riciclaggio e compostaggio e da una piattaforma per la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata e beni durevoli. Per CEA l'acquisizione rappresenta un passo in avanti nella strategia di crescita nel settore del trattamento dei rifiuti e un ulteriore rafforzamento in Abruzzo dove è già presente con la società DECO. Questa mattina presso la sede della regione a Pescara i vertici dell'ente hanno ascoltato i sindaci dei comuni interessati dal raddoppio ferroviario Pescara-Roma per discutere di eventuali modifiche al progetto iniziale. Vediamo il servizio. Incontro in regione questa mattina a Pescara tra l'ente e i sindaci dei comuni interessati al raddoppio del tracciato ferroviario della Pescara-Roma. Sindaco, cosa sta emergendo, cosa sta venendo fuori da questo nuovo incontro, questo nuovo confronto con la regione? Adesso si sta parlando della possibilità di creare una compensazione, un bacino di compensazione di tipo idrogeologico alla parte nord dell'interporto, che metterebbe definitivamente in sicurezza tutta la parte più a sud dell'interporto stesso e quindi renderebbe meno problematica e meno costosa la variante stessa, di cui io e il collega di Manoppello stiamo parlando oramai da diversi mesi. Accettare il progetto originario di RFI per quanto riguarda Chieti e il popoloso quartiere periferico di Brecciarola e la cittadina di Manoppello sarebbe disastroso da un punto di vista di impatto perché sono due zone fortemente antropizzate e nel progetto originario del DRFI questo raddoppio di velocizzazione della linea Roma-Pescara passerebbe proprio al centro, nei centri abitati con tutte le conseguenze immaginabili. Ultimi ritocchi, ma la villa comunale di Rosetto degli Abruzzi torna a riaprire i cancelli alla cittadinanza. Questa mattina l'amministrazione comunale ha annunciato anche i lavori che saranno svolti in futuro. Si punta alla riapertura anche del pieno terra, oggi ancora in fase di collaudo. Stefano Recanati. La villa comunale di Rosetto degli Abruzzi torna a disposizione della comunità. Il comune è proprietaria della villa dal 1974, un parco al centro della città a due passi dal Tempio dello Sport, l'Arena Quattropalme. Un luogo chiuso per troppi anni ed ora, specialmente in questa caldissima estate, potrà essere luogo di refrigerio all'ombra di piante secolari. Ma non solo, perché da oggi il parco tornerà ad essere anche spazio di riposo e cultura. Questo giardino, questo parco, questo spazio al centro della città è uno spazio che deve vivere, deve vivere per i cittadini, deve vivere per i turisti, deve vivere per gli eventi che sono già iniziati. Abbiamo voluto sancire con questa conferenza stampa questo momento perché vogliamo far percepire come le cose avvengono, non perché per caso, ma avvengono perché c'è un impegno. Da qui a poche settimane, forse qualche mese, riapriremo anche il piano terra che è in fase di collaudo. Insomma, un gran lavoro che messo insieme con la biblioteca comunale, restituisce la bellezza di questa rosetta attraente e attrattiva. Peculiarità della villa, le innumerevoli specie arboree, dalle rose alle palme fino ad arrivare ad una pianta secolare di eucalipto. Flora interamente mappata da agronomi specializzati prima della riapertura. Il lavoro è stato importante, abbiamo effettuato un censimento, una convalutazione di stabilità degli alberi, dove ho ritenuto eccessivo ho effettuato un'analisi strumentale sulle piante problematiche che comunque hanno risposto bene. Questa mattina è stato inaugurato l'orto urbano botanico a Pescara, intitolato al sindacalista del Will Antonio Ortolano. Vediamo. Inaugurato questa mattina in via della bonifica a Pescara l'orto urbano sociale dedicato ad Antonio Ortolano, sindacalista Will, scomparso recentemente. L'orto ricavato su un'area di proprietà del comune di Pescara nei pressi della pineta d'Annunziana sarà gestito da una cooperativa sociale con l'obiettivo di produrre ortaggi ad uso domestico. L'orto è stato consegnato alla città di Pescara da Uniat Nazionale, associazione di promozione sociale impegnata nella tutela del diritto alla casa e nella promozione di attività culturali sui temi ambientali, insieme a Will Abruzzo, associazione generale cooperativa italiana, cooperativa sociale ledera e dal consorzio impresa e sociale. Sono queste anche le iniziative che fanno sì che il sindacato sia sempre più in mezzo alla gente? Assolutamente sì, la Will ha deciso ormai da tempo di occuparsi oltre che sui temi sindacali, prettamente sindacali nella rappresentanza dei lavoratori, anche sui temi del sociale. Questo è un momento importante per Pescara, non sarà l'ultimo perché faremo l'anno prossimo un'altra attività di natura sociale rivolta ai ragazzi diversamente abili. Per cui sulle attività sociali la Will investirà molto nel prossimo futuro, sempre per diventare un sindacato di riferimento delle persone. Intanto cominciamo col dire che Antonio è stato un grande dirigente sindacale. Io ho avuto il piacere di conoscerlo l'indomani che lui, e parlo degli anni 80, i primi anni 80, è stato anche subito nominato segretario generale della Camera Sindacale di Pescara. E ho potuto subito apprezzare quando lui fosse dotato di quella sensibilità, quella, se vogliamo anche chiamarla, quella garbatezza necessaria anche alla funzione istituzionale che è quella del sindacalista. E ha fatto sì che potesse in breve tempo assumere quel ruolo, quella certa autorità, quell'autorevolezza. Lo ricordiamo con grande affetto, io gli ho sempre voluto bene e ripeto, per me rimarrà sempre nel mio cuore, come del resto rimarrà sicuramente con tutti noi. Presentata presso il Teatro dei Marsi ad Avezzano, una monografia sulla città da cui il titolo appunto Avezzano. La monografia promossa dalla Fondazione Irti racconta la città offrendo diversi piani di lettura. È uno spaccato della società che cambia e si rinnova continuamente. Una città più volte messa in ginocchio dalle avversità ma sempre capace di rialzarsi. Vediamo. Presentata al Teatro dei Marsi una monografia dedicata alla città di Avezzano. Il libro a cura dell'avvocato Giampiero Nicoli e con una prefazione di Natalino Irti raccoglie 12 saggi sulla città e si pone l'obiettivo di mettere in luce le varie peculiarità che hanno consentito ad Avezzano di consolidarsi come punto di riferimento della Marsica nonostante il devastante terremoto del 1915 dall'urbanistica allo sport, dall'economia al teatro, dall'archeologia all'arte. Il libro si compone di 560 pagine che comprendono anche un importante apparato fotografico a firma di Francesco Scipioni, Luca del Monaco e dell'archivio fotografico di Giovanni Battista Pitoni. Questo libro che è unico racconta la storia di Avezzano moderna, la racconta in tutti i settori della vita sociale, economico, artistico e l'affida questo racconto non a uno storico come di solito si fa, ma a 12 specialisti di ogni settore tra persone più grandi che sono già preparatissime nei loro campi e giovani che si affacciano ora al giornalismo e alla scrittura. Cominciamo con l'economia che avrà due saggi con diverse angolazioni. Passiamo al teatro, all'arte pittorica, alla scuola, storia delle scuole e delle biblioteche, storia della comunicazione, quindi un sacco di cose trattate ed è dedicata ai giovani, ai millennials, perché è un'opera che è rigorosamente scientifica dal punto di vista storico, ma è volutamente divulgativa, cioè comprensibile e deve essere comprensibile da tutti in sostanza. L'amministrazione comunale di Pescara ha presentato lo sportello telematico per ridurre i tempi lenti della burocrazia. Vediamo il servizio. Basta burocrazia, pratiche più snelle. Questo è il messaggio che lancia l'amministrazione comunale di Pescara, assessore, nel giorno della presentazione di questo nuovo sportello telematico. L'obiettivo è questo, iniziato già con l'insediamento dell'amministrazione Masci, già da due anni e mezzo fa. La Covid ha dato uno spinto ulteriore a questa attività e oggi ovviamente presentiamo questo sportello telematico che è già attivo sulla città, oltre 400 sono state già le pratiche istruite. L'obiettivo è rendere comoda la vita ai cittadini di Pescara in modo da abbassare quelle che sono le attese, diciamo in qualche modo le perdite di tempo e ridurre al minimo l'affluenza presso le sportelle. Questo va in un'ottica sicuramente di renderla comoda la vita, ma anche per rendere più efficiente l'utilizzazione delle risorse umane interne che in questo modo saranno alleviate ovviamente dal fatto di ricevere pratiche e di istruirle nel modo tradizionale. Questo vuole in qualche modo rendere la possibilità a tutti di presentare dalla pratica edilizia alla pratica di cambio di residenza attraverso questo sportello, attraverso un'identificazione univoca e quello dello speed, cioè il riconoscimento digitale, dell'identità digitale che sta prendendo piede e ha preso piede nella nostra nazione sostanzialmente. Dal 23 al 25 settembre si terrà a Chieti la prima edizione del Lucky Live Music Festival aperto alle band abruzzesi e non. Stamani la presentazione della Kermes. Vediamo. La nostra associazione ha pensato di ampliare l'offerta culturale spaziando nell'ambito delle arti e la musica la consideriamo chiaramente un'arte, la musica e anche cultura. Essendoci anche ampliati come organico e abbiamo acquisito dei soci che sono espertissimi di musica, che sono anche esperenziati in altre esperienze con la musica, ci è venuto in mente di fare questo festival e di dedicarlo appunto a tutte le band. A chi è rivolto questo festival? È rivolto a tutti, all'Abruzzo ma anche fuori Abruzzo. Noi ci auguriamo che con l'andare del tempo Lucky Live diventi un festival importante, tant'è che la scelta anche della location è l'inizio per poi volendo occupare spazi veramente grandi come ad esempio quello dell'Arena della Civitella un giorno. L'ingresso sarà gratuito o ci sarà un biglietto da acquistare? L'ingresso è gratuito, è fruibile da tutti coloro che verranno e anche l'iscrizione al festival da parte delle band è gratuita. È sicuramente una bellissima rassegna, la possibilità di far esibire delle band locali, una Kermess secondo me dalla grande intuizione per quanto riguarda la musica leggera. Noi anche come amministrazione stiamo lavorando in tal senso per istituire un festival e lo presenteremo sicuramente questo inverno, quindi più iniziative ci sono e più la città cresce sotto tanti punti di vista. Paolo De Cesare sarà tra i concorrenti di questo festival? Paolo De Cesare è un appassionato di musica, soprattutto di musica leggera e quindi senz'altro sarà presente ad assistere a questa bellissima Kermess. Illustrata questa mattina in dettaglio la collaborazione nata fra il Comune di Pescara e l'Associazione Romena di Volontariato attiva sul territorio. Vediamo. Nasce una fattiva collaborazione tra il Comune di Pescara e l'Associazione Romena di Volontariato Abruzzo che si concretizza con uno sportello comunale al servizio dei cittadini romeni. La comunità romena Pescara è molto numerosa e nel tempo si è integrata nel tessuto sociale e professionale del capoluogo tanto da dar vita all'Associazione Romena di Volontariato. Il rapporto di collaborazione attivato tra l'amministrazione comunale e la stessa associazione presieduta da Mariana Bolan è stata illustrata nei suoi contenuti a Palazzo di Città. Questa iniziativa nasce da voler aiutare tutti coloro che sono ormai parte della nostra società italiana, una società democratica che veramente ci ha fatti sentire a casa, ma per sentirci veramente parte di essa abbiamo avuto grosse difficoltà come ben sa, adesso facciamo parte dell'Unione Europea, ma all'epoca, io parlo di 22 anni fa quando io mi si piede in Italia, eravamo immigrati. Da allora ad oggi, grazie alla professionalità che ovviamente ho acquisito, essendo un avvocato romeno poi, ovviamente proseguendo anche in Italia un riconoscimento, mi ha permesso di aiutare e di aiutarli ad oggi sentirsi veramente a casa. Fiorili va anche nella direzione dell'integrazione questa iniziativa? No, è proprio così, è una vera e propria azione di integrazione, perché noi spesso parliamo in questi giorni di integrazione sociale, di integrazione con gli stranieri, ma poi l'integrazione si concretizza in azioni, gesti e soprattutto misure che diano realmente la possibilità a chi arriva magari ed è spesato, non conosce le leggi, le modalità, gli usi, i protocolli di un'amministrazione che sono già complessi a volte per chi vive in Italia, allora offriamo uno sportello che sia un modo, un'interfaccia diretta per semplificare tutte quelle questioni che invece diventerebbero degli ostacoli insormontabili e che favoriscono davvero l'integrazione per sentirsi cittadini a pieno titolo. Oltre questo sportello noi anche in precedenza abbiamo aperto anche altri sportelli, come quelli di Veneziani, oggi i rumeni, ma questo è perché vogliamo dare un input a tutta la città di Pescara, ai cittadini che tutti devono avere le stesse uguaglianze, tutti devono avere gli stessi diritti, quindi noi ci siamo, il Comune di Pescara c'è, siamo a disposizione per dare sempre aiuto a tutti. Lo sport, un interessante tesoretto per il mercato del Pescara, arriverà dalla cessione di Edgar Elisalde, entro la mezzanotte scadrà il prestito a Penarol e il club uruguaiano dovrà decidere se esercitare l'opzione o altrimenti sono pronti gli argentini dell'independiente. Vediamo il servizio. Poche ore poi si conoscerà il destino di Edgar Elisalde, una storia strana, quella di questo difensore uruguaiano classe 2000, arrivato nel 2017 a Pescara con importanti premesse. In bianca-azzurro, nonostante il lungo contratto, non gli è stata data mai grande fiducia, basti dire che da allora ha collezionato appena sei presenze, tre in Serie B e tre in Coppa Italia, appena tre da titolare, due in Coppa contro Chievo e Notalesco, in campionato una contro il Cittadella. Proprio questa partita, lanciato da le grottaglie, è stata la penultima gara in bianca-azzurro, giocata prima della pandemia, il 14 febbraio 2020. Rigore procurato ai Veneti che costa la sconfitta al Pescara, è stagione di fatto per lui finita. In C, pochissimo spazio a Catanzaro, meglio decisamente con la maglia della Juve Stabia, ma per esplodere, Elisalde ha bisogno di tornare in patria e indossare la gloriosa maglia del Penarol, con cui vince un titolo, e la svolta per la carriera del calciatore, ma anche per il Pescara, che intravede una interessante plusvalenza tra i 600 e i 700 mila euro, ad un anno dalla scadenza del contratto, giugno 2023. Resta da capire se il Penarol eserciterà l'opzione entro la mezzanotte di questo 30 giugno, alla scadenza dunque del prestito, o se ci sarà via libera per gli argentini dell'independiente, pronti a pagare il cartellino del difensore. Soldi freschi che aiuteranno la campagna acquisti del Delfino, che sta decollando proprio in questi giorni. Si attende solo la ratifica per l'operazione col Monza, che porta il portiere sorrentino ai Brianzoli, in cambio di un milione di euro raggiungibile coi bonus, il prestito di Siatunis, e i cartellini di Somma Riva e Lombardi. In addirittura d'arrivo anche l'attaccante Facundo Lescano, da Lentella, nonostante la resistenza di Luca Clemenza a fare percorso opposto, lo scambio De Marchi della Latta col Padova, gli innesti dell'attaccante Luigi Cuppone, in prestito della Cittadella, e degli esterni Lorenzo Milani e Matteo Saccani. Per la porta, oltre Somma Riva, il Pescara cerca un titolare, e l'ultima idea è l'ex gubbio Simone Guidotti della Fiorentina. Entro due settimane le squadre di Serie D dovranno formalizzare l'iscrizione, ma sono ancora tante le incognite per diverse società. Intanto naufraga lo scambio di titoli tra Notaresco e Giulianova. Vediamo. Anche in Serie D continua ad esserci grande fermento intorno alle società abruzzesi, tra chi cerca nuove risorse, chi cerca di allargare la base societaria, chi una cessione totale delle quote a nuovi acquirenti. Ora però il tempo inizia a stringere e nella settimana che andrà tra l'8 e il 15 luglio andranno formalizzate le iscrizioni al campionato col pagamento di 16.000 euro più fidei uscione dell'importo di 31.000 euro. Ha del clamoroso quanto accaduto sull'asse Notaresco Giulianova. Solo domenica scorsa un comunicato del sindaco di Notaresco Diego di Buonaventura nel ringraziare il presidente Salvatore Di Giovanni per i quattro anni di calcio fatti nel comune del Momano annunciava l'accordo di uno scambio di titoli con Giulianova, col club gelorosso in Serie D e il Notaresco, con l'uscita di scena dello stesso Di Giovanni e dei dirigenti Luigi Di Battista e Diego Ferrante, pronto a ripartire da una meno dispendiosa eccellenza. Ieri sera il colpo di scena, non del tutto inaspettato alla luce dei rumors delle precedenti 48 ore. Questa volta il comunicato è a firma ASD Giulianova Calcio, dove si fa riferimento all'esito negativo della trattativa per questioni contabili non afferenti il Giulianova Calcio e soprattutto quando sono mutati gli interlocutori. Resta ora da capire cosa accadrà. Il Notaresco si iscriverà lo stesso alla Serie D, rischiando una stagione simil-nereto di quest'anno? Ci sono margini per riprendere una trattativa con il Giulianova, magari con una fusione che porterebbe però alla sparizione di uno dei due titoli? Altre due piazze calcistiche importanti vivono ore piene di interrogativi. Chieti è vasto. A Chieti mancano sviluppi ufficiali dopo il comunicato di fine maggio del patron Giulio Trevisan e del presidente Antonio Mergiotti. Non sono mancate iniziative anche del Comune per cercare di coagulare forze imprenditoriali cittadine, ma al momento non si è arrivati al dunque. Negli ultimi giorni l'ex DS teatino Mauro Traini si è fatto avanti ed è frontman di un paio di imprenditori romani interessati a fare calcio a Chieti e che attendono di incontrare il patron Trevisan. A vasto trattativa in corso e in uno stato avanzato, ma non ancora chiusa, tra Attilio Di Stefano, imprenditore originario di Cupello, ex presidente della Civitanovese, e l'attuale proprietà. Tanti gli incontri che si sono susseguiti in questo inizio di settimana tra lo stesso Di Stefano e i co-presidenti Franco Bolami e Pietro Scafetta e i legali delle due parti. Si cerca la quadra per la fumata bianca. Nell'organigramma resterebbe il vicepresidente e massimo responsabile del settore giovanile Luigi Salvatorelli, tra i fautori dell'interoperazione. Situazioni di relativa tranquillità in casa della neopromossa Avezzano e ancora di più a Pineto, dove la presenza di un presidente di rara solidità come Silvio Brocco rende tutto più semplice in termini di pianificazione. Al di là di questi fronti aperti non sono esclusi altri colpi di scena da monitorare le situazioni Teramo e L'Aquila. Una eventuale mancata iscrizione del club bianco-rosso in C potrebbe aprire spiragli ad una procedura che farebbe ripartire il Teramo dalla Serie D. L'Aquila, con l'ingresso di Di Giovanni, punta sia a vincere il campionato di eccellenza, ma presenterà anche domanda di ripescaggio in D. e con tutte queste incognite, anche in casa San Benedettese, nelle vicine Marche, le acque sembrano agitate, chissà che un posto non possa liberarsi davvero. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul rinnovato sito www.tv6.it Vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione ITG delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.